Lo scontro tra regioni e regioni e industriali sullo sviluppo. Secondo gli industriali i fondi per lo sviluppo sarebbero stati dirottati altrove. Il Presidente Caldoro ovviamente la pensa diversamente. In merito sentiamo Angela Cortese, consigliere regionale del Partito Democratico. Allora abbiamo la nostra conversazione su questo scontro. Io devo dire che questo scontro nasce in effetti da un dato di fatto. Non si possono fare i proclami e ai proclami non far seguire delle azioni concrete. Gli industriali vivono quotidianamente questa crisi e tra l'altro molte aziende vantano dalla regione una serie di crediti che non sono stati ancora soddisfatti. Dopodiché sentiamo Caldoro sbandierare che i 500 milioni di Euro che arrivano dall'Unione Europea saranno impiegati per lo sviluppo. Ancora non abbiamo né visto il Presidente né in Consiglio ascoltato una relazione da parte dell'assessore allo sviluppo rispetto al tema degli investimenti dei fondi che arrivano dall'Unione Europea. Quindi capisco che a questo punto i proclami, come dicevo prima, non servono e che gli industriali che stanno vivendo anche loro una grande difficoltà dei mercati si facciano sentire. Le difficoltà della regione Campania riflettono un pochettino in larga parte anche le difficoltà in cui si dibatte il Paese e l'Europa. Il tema, il filo conduttore è lo spread, ma sullo sfondo vi sono le difficoltà reali dei cittadini che giorno dopo giorno incontrano sempre maggiori difficoltà nello sbarcare il lunario. Il problema è che noi ci confrontiamo con una situazione di un'Europa che non è un'Europa politica. Noi stiamo vivendo un continuo confronto con la Germania, quindi tutti gli Stati membri, infatti lo spread non è altro che il differenziale con il tasso di interesse tedesco. Quindi la Germania non è da sola l'Europa e allora io penso che su questo, e lo dico come europeista convinta, il primo passo da fare sarebbe veramente quello di arrivare alla Costituzione europea. Perché altrimenti non ha senso un'Unione europea basata solo ed esclusivamente sull'Europa monetaria, vediamo quello che sta succedendo. Invece un'Europa politica sicuramente avrebbe un altro obiettivo, se non proprio quello di tenere insieme gli Stati membri e di rafforzarsi come soggetto politico. In questa maniera è soltanto l'economia che fa la sua parte, la fa da Leone, la fa la Germania e stiamo vedendo che dopo la Grecia, la Spagna, l'Italia, ormai siamo ad uno spread che ha superato i 500 punti. Ma di tutto questo, agli italiani come agli spagnoli e come ai greci prima di tutti, che cosa è arrivato nelle loro vite? Se non tantissimi sacrifici, sacrifici che poi stiamo vedendo non stanno approdando a nulla perché la Germania continua ad irrigidirsi rispetto a quelli che dovrebbero essere gli aiuti della Banca europea nei confronti in modo particolare della Spagna e su questo vediamo che gli Stati più deboli, tra cui anche l'Italia, vengono tirati dietro. Diventa una caduta libera dove non c'è alcun freno se non interviene realmente la politica in Europa in modo particolare e si faccia finalmente col passaggio che si sarebbe dovuto fare diversi anni fa dopo l'avvento dell'Euro, la Costituzione dell'Europa politica perché soltanto quello diventerebbe il soggetto che può far fronte ad una crisi così difficile, una crisi internazionale ma se ci fosse un soggetto politico a governarla la crisi e a governarla nel rispetto della sovranità degli Stati ma con un indirizzo complessivo per tutta l'Europa probabilmente noi riusciremo ad affrontarla meglio. Intanto appare sempre più appannata l'immagine dei maggiori partiti italiani, il PDL guidato da un segretario che ultimamente ha perso di autorevolezza dopo le sortite di Berlusconi, il PDL dilaniato, entrambi criticano chi più chi meno Monti ma entrambi lo sostengono. Il governo Monti è nato con un altro obiettivo, io penso che forse un obiettivo di sicuro l'ha raggiunto il governo Monti che è stato quello di rimetterci in una condizione di credibilità nei confronti degli altri Stati europei ma anche nei confronti degli stessi Stati Uniti, quindi la figura di Monti è servita, uso un termine un po' pesante a moralizzare la politica italiana e ad essere un interlocutore credibile rispetto agli altri soggetti politici. Il vero problema è che noi assistiamo continuamente e costantemente a, tra virgolette, alleati del governo Monti che invece poi in Parlamento si comportano in maniera diversa, abbiamo visto quello che è accaduto sul presidenzialismo, sul semipresidenzialismo, quindi quando serve la Lega e la PDL votano insieme, quindi anche questo c'è poca chiarezza, io mi auguro che invece, forse non subito, ma che si vada realmente alle elezioni, c'è bisogno oggi, penso che anche il governo tecnico abbia fatto il suo tempo, anche perché i tecnici non si confrontano poi alla fine con i bisogni dei cittadini, abbiamo visto nei giorni scorsi la manifestazione dell'Unione delle Province, del Lanci e mi ha colpito molto, conoscendo tra l'altro la ponderatezza del Presidente del Lanci del Rio, la sua affermazione non appena è uscito dall'incontro con il governo, c'è come è andata male, non c'è neanche ascolto di quelli che sono i reali bisogni del Paese, allora questo governo tecnico si sta forse troppo distaccando da quelle che sono le esigenze reali del nostro Paese e degli italiani, ed in modo particolare del Mezzogiorno e dei cittadini del Sud, quindi questo gap che continuamente cresce, secondo me non fa bene al Paese, non fa bene neanche alla politica di questo Paese. A pagare sempre gli stessi, ora si minaccia anche il congelamento delle tredicesime, intanto qualcuno calteggia la patrimoniale, ma si risponde che è troppo difficile fare la patrimoniale, tecnicamente difficile e sembra assurdo tutto ciò. Mi pare che Orlandi in Francia l'abbia fatto e quindi è eletto da poco Presidente, e non ha avuto queste difficoltà, io penso che quando c'è una crisi e quando ci sono delle situazioni complesse bisogna saper scegliere e non penso che congelare le tredicesime, se congeliamo le tredicesime degli italiani, ma gli italiani quel momento di spesa fuori sacco, neanche quello ci sarà, ma come si riprende questa economia? Il denaro non gira più, se il denaro non ce n'è non gira e quindi diventa veramente un circolo vizioso nel quale stiamo entrando, quindi non penso che sia il congelamento delle tredicesime la soluzione appunto il far pagare sempre gli stessi, ma probabilmente una patrimoniale oggi comincerebbe a dare una piccola risposta ai cittadini, ma soprattutto darebbe anche un poco di fiato alle casse dello Stato. Il Partito Democratico rischia di pagare Dazio per il sostegno al governo Monti, è un punto di domanda? Io penso proprio di no, penso di no perché il nostro sostegno è stato un sostegno politico dettato da quel momento molto difficile, ma non è mai mancata la critica al governo Monti, non è mai mancata la proposta per migliorare quelle che erano le scelte del governo Monti, quindi la voce nel Partito Democratico non è stata mai messa a tacere, siamo andati avanti, su qualcosa si è ceduto, su qualche altra cosa invece si è riuscita a modificare e questo è il compito della politica, cercare di mediare tenendo sempre presente i bisogni reali del Paese. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortesia e attenzione, d'acquino politico della Campania come sempre tornerà domani alla stessa ora.